buonasera buonasera a tutti in questa affosissima almeno qua a milano serata benvenuti a questo appuntamento del canale geopolitica di sottosopra questa sera io sono fulvio scaglione io ho il piacere molto piacere di parlare e far parlare soprattutto giacomo gabellini che è un esperto di politica internazionale di geopolitica giornalista saggista a molti libri importanti all'attivo ha scritto su israele geopolitica di una piccola grande potenza sulla germania che poi il tema della nostra serata di che andremo ad affrontare fra pochissimo sulla continuità politica economica strategica della germania ha scritto sulla genesi formazione e sgretolamento nell'ordine economico statunitense sulla dottrina moral egemonia statunitense quindi come vedete uno spettro di interessi molto molto ampio e molto interessante quindi grazie giacomo per essere con noi benvenuto in questo forum virtuale di sottosopra grazie a voi come dicevo prima abbiamo scelto uno uno spicchio dei tuoi vasti interessi che è quello della della germania che in questo momento è un paese molto interessante da seguire per tutto quanto sta avvenendo sia all'interno della germania sia direi forse anche soprattutto all'esterno della germania ti farei come domande dell'esordio una domanda molto molto banale con come la vedi la germania di adesso la germania di scholtz la germania del dopo merkel cioè una germania che non sembra più la germania come dire rispettata autorevole dei dei lunghi anni del cancellierato merkel sembra una germania un po più confusa un po più debole un po più smarrita ecco chiedo te però naturalmente direi sono d'accordo vedo vedo un paese ridimensionato nelle sue ambizioni eh dotato di una leadership meno eh convinta meno anche conscia dei dei propri limiti dei propri mezzi e quindi prevedo che la germania attraverserà un periodo di difficoltà strutturale piuttosto pronunciato eh basti pensare che il paese chiaramente il paese cardine dell'unione europea del vecchio continente anche preso anche inteso non solo politicamente ma anche geograficamente ci sono stati diversi esponenti del governo ucraino che hanno parlato di scholtz come di una salsiccia gli hanno dato della salsiccia apertamente quindi la germania è stata ridotta diciamo al rango quasi di paria proprio per per le sue decisioni strategiche assunte in passato che eh fondamentalmente hanno un problema di fondo colossale la germania è un paese mercantilista eh dipende tra il sei tra il cinque il sette per cento del suo PIL dipende dalle esportazioni è una quota notevole notevolissima quasi non ha uguali nel resto del mondo e chiaramente ha delle implicazioni un commercio estero di questo tipo per esempio il fatto che eh mercati di sbocco fondamentali sono la Russia e la Cina e allo stesso tempo la Russia anche un fornitore di materie prime a prezzi relativamente ridotti che hanno consentito per l'appunto alla manifattura tedesca di esporti di ricavarsi ampi spazi di mercato in tutto il mondo nel momento in cui rimani un paese presidiato militarmente dall'esercito statunitense hai perso la seconda guerra mondiale chiaramente è un dato di fatto incontrovertibile e che continua a pesare tantissimo su questo paese eh però hai ambizioni mondiali perché eh cerchi di eh ritagliarti come dicevo spazi di manovra anche verso oriente e se segnatamente verso quelli che si configurano come i nemici come gli avversari strategici degli Stati Uniti e si viene a creare una contraddizione una contraddizione che è stata tenuta diciamo eh è stata resa sostenibile per diversi anni da dal po' dall'equilibrismo della Merkel e che adesso invece i nodi sono venuti al pettine perché come dicevo la manifattura eh tedesca si basa sulle forniture russe e le forniture russe potrebbero non arrivare più se non vengono più vengono meno le forniture russe salgono i prezzi delle degli input essendo una economia di trasformazione paghera Dazio paghera Dazio in termini di rincaro delle delle sue merci che va ad esportare che pretende di esportare verso il resto del mondo che perderanno di competitività e per un paese come dicevo che eh poggia non solo per il PIL ma anche per il dato occupazionale anche per gli equilibri sociali interni dipende parecchio tantissimo dall'esportazione e si pronunciano periodi parecchio difficili per un cancelliere che è subentrato da pochissimi mesi eh a a Merkel che è in sella da era in sella da 15 anni 17 anni eh si tratta di una sfida di non poco conto che Schultz onestamente a mio modesto parere non sembra particolarmente attrezzato a sostenere. Senti io ti chiedo scusa le mie domande saranno un po' così random andrò dove mi porta il cuore come diceva il il romanzo no? Adesso è molto diventato molto di moda in questa eh nouvelle vague di atlantismo spinto criticare la politica della Merkel no? Perché la Merkel avrebbe anche per le ragioni che hai appena detto tu. Però io mi mi domando una cosa. Il il gas russo noi l'Europa e quindi anche la Germania importa il gas russo dalla fine degli anni cinquanta e in questi sessant'anni di importazione eh di gas russo e di esportazione evidentemente dalla Russia sostanzialmente non ci sono mai stati grossissimi problemi tranne forse nel 2008 quando ci fu la crisi tra Russia e Ucraina e poi ci fu un'altra crisi nel 2005 ma durò tre giorni quindi non insomma chiamarla crisi mi sembra un po' tanto questo gas era il più economico a disposizione sul mercato no? E quindi ha in qualche modo è stato uno dei vettori del del boom economico europeo se vogliamo dirle in altro modo del boom economico della Germania che poi è stato uno dei vettori a sua volta del boom economico dell'Europa allora io mi domando ma tutte queste critiche alla Merkel secondo te che sei uno studioso di Germania uno specialista di Germania hanno senso o è il senno del poi cioè non è che possiamo pensare che trent'anni fa non dovevamo comprare il gas russo perché trent'anni dopo avrebbero invaso l'Ucraina credo no? Direi che buona io sono un critico della Merkel però focalizzo le mie critiche su altri fattori per esempio sul su quelle ma non è tanto la Merkel quello è proprio la predisposizione economica tedesca verso l'austerità l'ordoliberismo il fatto di ancorare la propria crescita sulla disponibilità del resto del mondo a importare le tue merci che è una cosa che può andare bene per un certo periodo ma strutturalmente nel lungo nel medio lungo periodo diventa insostenibile la Merkel però dal dall'altro punto di vista ha cercato di tutelare i propri interessi nazionali che consistevano proprio quello che giustamente dicevi tu cioè nel approvvigionarsi di materie prime come dicevo prima essendo un'economia di trasformazione che dipende quindi essendo priva di materie prime fondamentali deve importare dall'estero importa materie prime le trasforma in prodotti finiti un materie primo semilavorati che trasforma in materie finite dal medio alto valore altissimo valore aggiunto aerei automobili famose in tutto il mondo la l'automobilistica tedesca non c'è non devo certamente dirlo io quindi da questo punto di vista le decisioni della Merkel sono in linea con gli interessi economici del paese a questo si è associato per esempio un progetto che secondo me è notevole che la Germania aveva portato avanti già un secolo fa più di un secolo fa più o meno cioè quello di aggregare di fungere d'aggregatore pari paesi dell'europa orientale che in cui ha decentrato inizialmente le produzioni dal relativamente scarso valore aggiunto paesi che fra l'altro non fanno parte dell'euro quindi non dell'euro zona quindi non hanno l'euro ma hanno monete agganciate all'euro monete relativamente svalutate rispetto alle quali l'euro un potere d'acquisto ha cresciuto praticamente ha decentrato le produzioni dal basso valore aggiunto in questi paesi da cui reimporta come dicevo prima semi lavorati che poi vengono assemblati in germania e riesportati all'estero ha costruito un blocco economico gigantesco in tutta l'europa centrale centro orientale di cui fanno parte polonia slovacchia repubblica cieca romania che raggruppa in totale circa più di 100 milioni di abitanti che conferisce a mio parere la germania un potere non solo economico ma anche politico di gran lunga superiore a quella che quella che la sua stazza formale di paesi di 80 milioni di abitanti condiziona le decisioni il benessere di questi paesi è venuto a dipendere proprio dal loro ancoraggio alla catena del valore tedesca quindi credo che la merkel il contrattare di questa cosa era proprio approvvigionarsi di materie prime a prezzi relativamente ridotti è l'unico paese che era in grado di soddisfare come giustamente dicevi tu di soddisfare questo questo bisogno era l'agile della russia non solo per chiaramente il gas e il petrolio rivestono rivestono un ruolo fondamentale ma anche le materie altre materie prime che mi cui ha bisogno proprio l'industria manifatturiera tedesca sono state fornite giustamente dalla russia e la merkel ha cercato di andare incontro a questo a questo bisogno poi chiaramente l'attantismo è un problema è un problema questi paesi di a cui tu facevi riferimento che fungono da periferia fordista dell'hab industriale tedesco hanno il difetto che si dipendono economicamente da germania ma politicamente sono molto più legate agli stati uniti rispetto all'unione europea e quindi tendono ad avere una una percezione della sicurezza del e anche proprio la loro collocazione geopolitica molto più tendono ad avvicinarsi molto di più gli stati uniti rispetto a quanto non facciano rispetto all'unione europea da cui prendono hanno preso tantissimi finanziamenti che hanno permesso per esempio un paese come la polonia di ammodernare tutte le proprie infrastrutture finanziamenti per inciso che vengono quasi sempre stornati dal sud dall'europa meridionale e vengono rindirizzati verso l'europa orientale hanno permesso a questi paesi di crescere ma questi paesi allo stesso tempo tendono a seguire in maniera quasi cieca direi si vede proprio in questi giorni con le decisioni assunte dalla lituania dalla polonia la linea imposta dagli stati uniti la linea dell'oltranzismo che cozza presentemente con gli interessi della vecchia europa quella come la chiamava ramsfeld la vecchia europa che tende ad avere degli interessi economici che non coincidono con quelli degli stati uniti che dipendono dalla preservazione di un rapporto collaborativo quanto meno collaborativo con la federazione russa e che invece gli stati uniti intendono decidere da almeno il 1945 quindi praticamente prendono i soldi bruxelles gli ordini a washington diciamo a me sembra che proprio sia sia proprio così un collaboratore del non mi ricordo se era un ministro o un sottosegretario del governo polacco di katzinski parlò a suo tempo di della prospettiva di trasformare la polonia in una porta aerea inaffondabile degli stati uniti in cui dislocare proprio armi atomiche puntate contro la russia sono cose che non sono esattamente in linea con gli interessi di un paese di paesi industriali che hanno una forte propensione anche al mercantino industriale come la germania e anche l'italia chiaramente come anche come ad esempio la lituania sta questi giorni chiudendo il passaggio ai rifornimenti che vanno dalla russia contiene dal dal corpo della russia principale all'exclav di kaliningrad sono sono manovre che sono pericolose e soprattutto segnalano un deficit strategico clamoroso dell'unione europea che ha inglobato il proprio interno di questi paesi che poi nel corso degli anni hanno monopolizzato la sua politica estera che hanno hanno fatto invocare l'unione europea una deriva antirussa che dal nostro punto di vista economia come dicevo prima di trasformazione come quella tedesca e italiana sono catastrofiche ma secondo te considerato il diciamo scholtz salsiccia come dice l'ambacciatore ucraino melnik no un giorno signor giorno no è considerato macrona zoppato dai risultati delle elezioni politiche l'asse tedesco francese che era un po la spina dorsale del dell'unione europea è andato o è un momento così di disbandamento io credo sempre creduto che fosse una una simulazione una costruzione retorica l'asse franco tedesco perché in fin dei conti germania e francia sono paesi incomparabili da ogni punto di vista la francia un vaso di coccio rispetto alla germania sia al diritto di vieto in sede delle nazioni unite alla force de frappe ma l'atto pratico ha una capacità di influenza molto contenuta rispetto alla stessa determinazione degli indirizzi europei e chiaramente e la francia risente di questo secondo me è interessante potete notare la il tempismo del discorso che ha fatto putti nel forum di san pietroburgo e l'esito delle elezioni legislative in francia che hanno visto una stensione molto alta molto elevata e hanno visto il macron subire una colossale disfatta perché in fin dei conti ha visto i suoi avversari ottenere notevoli posizioni di vantaggio rispetto a come allo scenario che si prefigurava solo qualche giorno prima e putti nel suo discorso di san pietroburgo ha parlato dell'unione europea come di uno spazio governato da burocrati che sono completamente diciamo in preda uno scollamento tra le elite tra l'apparato dirigenziale che determina proprio gli indirizzi dell'unione europea e le popolazioni e questo a ditta di putin nella sua analisi questo diciamo questa divaricazione avrebbe condotto all'affermazione di partiti di forze populiste nel senso deteriore del termine demagogiche più che populiste direi demagogiche che avrebbero condotto l'europa a uno sfaltamento e la francia mi sembra che sia uno dei paesi il candidato principale a fare questa fine un po per le proprie dinamiche interne ricordo che è un paese che ha al proprio interno decine di migliaia di francesi cittadini francesi di origini magrebine che sono formalmente francesi ma che non si identificano come francesi vivono nelle banlie non hanno un sono se vivono una un conducono uno stile di vita con sostanzialmente separato da quello del corpo della nazione e simmetricamente la loro presenza ha favorito l'affermazione di partiti di che avevano adesso cercano diciamo di mascherarla questa cosa ma avevano una chiara connotazione xenofoba come fronte nazionale e quindi vediamo un paese polarizzato immagini un paese polarizzato che essendo polarizzato al proprio interno perde potere contrattuale anche in seno a questo fantomatico asse franco tedesco la germania rimane il paese entrambi sono in fase declinante ma la francia più declinante della germania secondo me quindi nell'ambito di questo rapporto bilaterale gli equilibri tenderanno ancor di più a prendere a favore della germania specialmente per quanto concerne le politiche economiche che si dovranno adottare negli anni mesi a venire che torneranno verso l'austerità già preannunciata dalla rialzo dei tassi di interesse da parte della del fondo della banca centrale europea e che quindi si assisterà un riallineamento di tutta la politica economica europea sulla sulle posizioni tedesche e la francia sarà uno dei principali perdenti di questa secondo me di questa partita e la germania tu hai detto non tanto come la francia ma un po declinante lo è anche lei quali sono al momento i suoi punti deboli beh come dicevo i punti deboli è il fatto di dipendere dall'export il fatto di avere una un occupazione interna che dipende molto dal fatto della dalla capacità di export del paese quindi se gli stati uniti la cina sono disposti ad acquistare in massa bmw come hanno fatto bmw mercedes audi come hanno fatto in passato e il paese ha una sua sostenibilità socio economica nel momento in cui questi per vicissitudini dovute agli eventi prima è arrivato trump trump è stato il primo a cercare di mettere in realtà aveva cominciato già obama sotto obama si erano registrati alcuni avvisaglie con i messaggi trasversali che avevano il significato molto chiaro però il cosiddetto dieselgate era una per carità infatti a quanto pare erano reali ma credo fosse stato abbastanza strumentale come l'entità del danno provocato la volkswagen in termini sia di sanzioni sia di immagine e le multe rifilate a deutsche bank il fatto che si è diretti statunitense prendevano di mira le banche tedesche poi sotto trampe l'uso l'uso dei da l'uso intensivo dei dazi che molti l'hanno hanno preso giustamente per carità hanno identificato come destinatario di queste misure la cina ma anche la germania è stata colpita pesantemente trump ha inflitto dazi e ha ridisegnato la struttura del nafta l'accordo di libero scambio del nord del nord nord america in maniera tale da ostacolare l'export tedesco quindi c'è stata una crescente insofferenza da parte degli stati uniti nei confronti di queste politiche mercantilistiche tedesche e la germania dal suo punto di vista ha tenuto il punto ha cercato sempre comunque di conservare la propria ricordo che la merca parlò del fatto della necessità da parte dell'europa di prendere in mano il proprio destino e quindi divorziare idealmente dagli stati uniti era proprio nasceva in quel era un'affermazione che è maturata in quel clima creato proprio da trump ma attualmente con lo scoppio della crisi della degenerazione della crisi ucraina con l'attacco russo all'ucraina si è venuta proprio a si è venuta a creare una disintegrazione totale delle catene del di approvvigionamento che già erano provate da seriamente messe in crisi dai due anni di pandemia che hanno fatto in modo che hanno messo in crisi la capacità dell'industria tedesca di di ottenere di approvvigionarsi delle risorse fondamentali di cui ha bisogno e quindi per la germania la vedo veramente dura paese propenso all'export che si trova di fronte a uno scenario in cui quasi tutti i paesi fornitori tendono a mettere sotto controllo strategico dello stato le proprie riserve di materie prime e cominciano ad affermarsi ehm posizioni non dico neoprotezionistiche ma poco ci manca si si diciamo si profila una segmentazione della dello scenario globalizzato per come l'abbiamo conosciuto in blocchi economici molto meno comunicanti di prima chiaramente per un paese che ha ancora basato la propria eh diciamo la proprio benessere economico sulla disponibilità del resto proprio sulla libertà degli scambi sul fatto sulla disponibilità del resto del mondo ad accettare le proprie merci si profilano tempi piuttosto duri ecco tu hai citato gli anni della pandemia come anni in cui sono fermentati dei segnali no di in germania intendo dire di crisi eccetera ecco noi abbiamo avuto perché siamo italiani abbiamo alcuni piccoli complessi nei confronti della germania dei paesi del nord la sensazione che la germania durante la pandemia invece avesse reagito molto bene avesse fatto le cose per bene eccetera invece ecco raccontaci un po com'è andata davvero ma è andata più o meno com'è andata in italia la germania ha avuto fra l'altro un atteggiamento un po' tipicamente mi dispiace dirlo tedesco nel momento in cui si è prospettata la possibilità di per esempio di mettere in compito accettare un vaccino anziché l'altro astrazeneca rispetto a pfizer biontech che quest'ultimo vaccino ad una componente tedesca piuttosto piuttosto importante la merkel assunse una posizione piuttosto strumentale sospendendo decretando la sospensione delle somministrazioni che hanno già state avviate dei dei vaccini proprio per favorire il suo fra virgolette vaccino il vaccino che aveva una componente tedesca al proprio interno ma quello aveva sono battaglie di bottega nell'ambito proprio della gestione e la gestione è stata un po all'italiana hanno lockdown generalizzati che hanno avuto gli stessi effetti che hanno avuto in italia poi giustamente come dicevi tu noi italiani abbiamo la un po il complesso di inferiorità un po l'esterofobia proprio specialmente i partiti che a loro dire si collocano a sinistra hanno un'esterofilia molto molto pronunciata e quindi tendono a vedere nelle provvedimenti nelle politiche assunte da paesi stranieri effetti positivi più non possa anche quando non esistono il caso tedesco è proprio la germania ha adottato praticamente le stesse politiche che ha adottato l'italia ha ottenuto risultati comparabili commisurabili lockdown una misura che non si chiama green pass ma è che è molto simile gestione federale del diciamo della della pandemia e quindi per cui la merkel non ha il potere di decretare la chiusura delle scuole ma lo possono decretare i singoli lander e quindi è dopo anche proprio l'ordinamento dello stato che ha reso difficoltosa e frammentata questa gestione la mancanza di di centrali di centralità diciamo nelle decisioni l'impossibilità da parte del governo di far valere su sull'intero territorio nazionale decisioni univoche espone a rischi perché un lander agisce in un modo un lander agisce in un altro facendo magari si mettono anche in competizione tra loro per accreditarsi l'uno rispetto all'altro e quindi è stata una gestione piuttosto disordinata e che non diciamo non propriamente confacente all'ordine al rigorismo alla metodicità che contraddistingue i tedeschi ma secondo te questa questa specie di triade che abbiamo visto in azione recentemente scholtz draghi macron è una cosa occasionale perché c'era questa opportunità perché c'è la guerra perché 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 o può prefigurare una larga quello che era il binomio può diventare un trinomio la germania può adattarsi ad una gestione come dire un po più condivisa della sua influenza in europa oppure no ne dubito io credo che l'attitudine che hanno le leadership tedesche sia quella di dettare sempre la linea almeno nel loro quello che loro considerano il loro cortile di casa che l'unione europea per cui credo che in questo caso però il problema è che la linea non la dettano i tedeschi la dettano gli americani allora la mia la mia interpretazione che può essere chiaramente errata è che credo che questi leader sia lo stesso draghi macron e schultz comincino a risentire in termini proprio di popolarità e di appoggio cioè il progressivo sgrettolamento della base elettorale dovuto al fatto che l'inflazione che si molti imputano solo la guerra ma in realtà origini che precedono la guerra perché dovuta alla speculazione alla una gestione completamente scriteriata del rapporto tra quello che dovrebbe essere lo stato e i mercati tutto completamente a vantaggio di questi ultimi che praticamente ha fatto salire i prezzi a dismisura e questi prezzi cominciano ad erodere nel migliore dei casi risparmi in molti casi a proprio mangiare la capacità d'acquisto dei normali cittadini lavoratori europei e come dicevo l'italia è un paese che ha ancora un risparmio privato piuttosto elevato molto elevato specialmente se l'ha affrontato da altri paesi occidentali e la germania un po meno la germania meno casi di proprietà ea molte persone che vivono in affitto e quindi l'impatto dell'inflazione e soprattutto le prime avvisaglie che cominciano arrivare dalla russia perché sia chiaro che fino a questo momento la russia ha subito ma non ha adottato misure contro sanzioni propriamente dette fatta accensione per qualche una decina di misure che non hanno un impatto particolarmente nel momento in cui dovessero interrompersi le forniture di energia da parte della russia come la russia sta cominciando a ventilare a qui si profila un scenario catastrofico e probabilmente io la lettura che do di quel viaggio a kiev credo sia stato una concreto cioè dal punto di vista mediatico esternare a livello internazionale l'impressione che diciamo dare l'idea di un di una coesione europea quindi tre paesi cardina dell'unione europea che si recano a chiave per parlare per tutti a voce di tutti in realtà credo che arrivati a chiave abbiano cominciato ad esercitare qualche pressione sul governo ucraino sui collaboratori affinché cominciassero ad a fare qualche apertura per predisporre a un cioè per preparare il terreno al all'intapolamento di trattative diplomatiche che pongano fine al conflitto e quindi di a ricasco a un una caduta delle dei valori delle materie prime che al momento stanno mettendo in crisi spaventosa eh non solo l'economia ma anche proprio la sussistenza stessa delle famiglie perché ancora adesso siamo in estate ma io voglio vedere quando arriverà ottobre novembre con le scorte quasi a zero come come affronteremo l'inverno in italia già sostenibile ma in germania l'inverno piuttosto rigido per cui si prospettano tempi non proprio gli liaci di velte come tu sai benissimo ha scritto proprio apertamente che i tre erano andati lì per dire a zellinsky guarda che eh prima o poi bisognerà mettersi d'accordo adesso io l'ho detto così è un tema molto serio ma i giornali tedeschi forse non a caso l'hanno proprio scritto apertamente sì beh è chiaro perché nel momento in cui cominciano a avvertirsi sulla vita quotidiana di milioni di persone agli effetti di questa situazione la situazione come dicevo si fa potrebbe farci preoccupante per cui eh quanto potremmo reagire io da un certo punto di vista prezzo il fatto che in germania si sollevino voci per esempio la confindustria tedesca che chiaramente hanno delle grandissime industrie i suoi portavoci hanno partato ripetutamente di eh effetti catastrofici in e non da oggi eh non da oggi perché almeno due mesi fa già lo dicevo sì sì di effetti catastrofici in eh nell'eventualità di un'interruzione dei flussi di energia da parte della Russia quindi ci sono voci che si sollevano poi chiaramente al governo hanno un partito che è quello dei verdi che da è uno dei partiti incredibile è uno dei partiti più guerra fondai che che ci siano è un dato di fatto io lo ricordo il milenovecentonovantanove eh governo Schroeder coalizione socialdemocratico con i verdi Josh Kaffischer al ministero degli esteri era un bombardatore ancora più convinto della Jugoslavia rispetto a quanto non lo fossero alcuni ministri americani alcuni segretari americani eh in questo caso i verdi sono ancora proprio sulle collocati sulle posizioni più al transiste per quanto concerne eh la gestione della crisi ucraina e quindi c'è un anche Scholz si trova in una posizione obiettivamente molto scomoda perché si trova a dover mediare eh tra gli ambienti economici potentati economici che spingono in una direzione e questi ambienti ultratalimentisti che gravitano a turno ai verdi e la sua alla ministra degli esteri che eh premono invece per un allineamento della Germania sulle posizioni polacche e le baltiche e addirittura britanniche perché qui la Gran Bretagna sta giocando un gioco tutto suo a scapito dell'Unione Europea come sempre cerca sempre di agire per marginalizzare la Russia e impedire la coesione europea e eh molti leader europei in questo gioco continuano a caderci non so se per limiti culturali intellettuali o per non so non so non riesco ad ipotizzare un'altra ragione o meglio la ipotizza ma meglio che me la tenga per me eh comunque disaccoppiare la Germania dalla Russia eh sicuramente interessa eh io non penso che sia nell'interesse dell'Europa ma personalmente ma sicuramente il Regno Unito gli Stati Uniti eccetera credo che si lecchino le dita no? Il gioco è proprio quello il gioco è proprio quello all'origine di tutto c'è proprio quello è un tentativo che va avanti da McKinder i i padri della geopolitica anglosasso parlavano proprio del eh del pericolo che si che sarebbe scaturito dalla eh dalla prospettiva di una diciamo un'instaurazione di un rapporto strutturalmente collaborativo sinergico dire diciamo tra la Russia lo spazio eh russo e l'Europa la propagine occidentale della massa continentale euroasiatica perché dal collegamento da tra le risorse naturali eh la la potenza demografica e militare russa tradizionale e le tecnologie dell'Europa occidentale sarebbe scaturito un blocco economico in grado di relegare agli Stati Uniti a una diciamo in una condizione sostanzialmente secondaria confinandoli nella loro insularità il discorso loro termano in questi termini e per cui da eh le potenze anglosasso ne hanno sempre cercato di creare un cuneo a per coprire una frattura un vallo proprio tra l'Europa continentale e la Russia proprio per spezzare questa potenziale sinergia che fa dell'Europa e fa del cioè fa dell'Europa e della Russia e potenzialmente dell'Asia perché in questo gioco si innestano anche i disegni cinesi della Bertha Road Initiative quindi un ponte continentale eh eurasiatico che colleghi eh Vladivostok a Lisbona e Shanghai a Lisbona e che chiaramente che fra l'altro non si riduca all'Europa e all'Asia ma coinvolga anche l'Africa un blocco tricontinentale che è autosufficiente sotto ogni punto di vista di fronte a una prospettiva del genere gli Stati Uniti chiaramente agiscono nell'ottica che hanno mutuato dai dai britannici e i britannici a loro volta hanno mutuato dai romani di vide tipper cercare di creare dissidi in tutto lo spazio continentale eurasiatico proprio per evitare eh questa eh diciamo questa integrazione pacifica e con in teoria nei disegni che c'era preposto alla Russia che ormai risultano pressoché irrealizzabili eh si sarebbe dovuta realizzare all'interno della dello spazio continentale eurasiatico quindi ferrovie eh via di gasdotti oleodotti strade anche scambi culturali perché la cultura non non è che rivesta un ruolo secondario rispetto questo a quest'idea e avrebbero sarebbero dovuti fondersi per dar vita a un come dicevo un blocco diciamo di che raggruppa la maggior parte della popolazione mondiale la maggior parte delle risorse mondiali la maggior parte delle potenzialità militari mondiali gli Stati Uniti cercano di lavorare proprio per fomentare dissidi creare frammentazione poi chiaramente il fatto che dal 1945 eh l'unione l'unione i paesi europei siano presidiati militarmente eh per usare un eufemismo fra l'altro e anche dal punto di vista dell'intelligence politico da eh da da agenti statunitensi e crea le condizioni affinché nel momento in cui si tratta di decidere di prendere di assumere decisioni critiche che attengono le relazioni con l'estero il veto statunitense si fa valere anche a costo di eh ridurre l'Europa eh alla fame e io non voglio esagerare ma credo che sia uno scenario di medio periodo piuttosto concreto se andiamo avanti su questa strada Io tra l'altro tu citavi prima la Confindustria tedesca e gli allarmi precoci e reiterati della Confindustria tedesca ehm mi chiedo se proprio in virtù dei loro rapporti storicamente buoni dal punto di vista economico con la Russia eh non non sapessero qualcosa anche che non hanno detto nel senso che lo scenario comunque a cui ci troviamo di fronte è che non siamo noi che rifiutiamo il gas russo perché noi continuiamo a comprarlo e felici di farlo e la Russia che non ce lo vende più cioè questo va detto va detto a chiare lettere perché se no non si capisce cioè mi domando se quelli della Confindustria tedesca non avessero visto avanti e non avessero capito che i politici diciamo gli industriali non avessero capito che i politici stavano sbagliando qualche conto non so che io credo io credo di sì io credo che questo è un po' un discorso che ho sempre pensato cioè il fatto che comunque questi industriali vivono nel mondo concreto reale hanno una rispondenza diretta tra quelle che sono le loro necessità e le finalità ultime quindi sanno benissimo che ogni dichiarazione ogni presa di posizione ha un potenziale impatto nel momento in cui cominciano a vedere l'allineamento della Germania diciamo come dicevo prima sulle posizioni quasi quasi eh tra mille forze e mille contro perché in realtà sì la Germania vocalmente verbalmente si esprime per l'Ucraina eccetera però ha posto il vieto e questo probabilmente ai russi non è sfuggito ha posto per esempio il vieto sulla fornitura di carri carri Leopard da parte della della Spagna all'Ucraina ci sono delle remittenze chiare conclamate il problema è che si trovano la Germania non è un paese eh come l'Italia si diceva eh eh a sovranità limitata è molto più che limitata è un paese come se sono paesi commissariati nel momento in cui si tratta di prendere come dicevo prima decisioni strategiche non hanno il minimo margine d'azione quindi più o meno devono farlo devono devono muoversi a seconda di quelli che sono i diktat statunitensi a mio parere dopo ci sono dei potentati perché chiaramente la la confiduzione confiduzione tedesca è un potentato che trascende di gran lunga i confini tedeschi prende posizione e magari riesce a strappare qualche piccola qualche diciamo ammormidimento da parte della della la leadership politica ma a lato pratico l'orienta diciamo l'indirizzo ormai è segnato e a me io credo che la leadership cioè la confi industria tedesca eh legga con orrore le le esternazioni per esempio di Medvedev Medvedev era stato considerato per anni l'ala filo occidentale cioè il volto rispettabile del putinismo mettiamola proprio nei termini che piace usare ai nostri esperti televisivi a seudo esperti televisivi Medvedev era eh diciamo il personaggio l'esponente dell'apparato dirigenziale russo apparentemente più incline più propenso all'apertura nei confronti dell'occidente da qualche settimana questa parte sta assumendo delle posizioni che lasciano interdetti ha parlato di Macron come mangia ranocchie di Draghi come Spaghettaro di di Scholz come mangia Wüstel ha parlato che a suo parere gli occidentali andrebbero quasi eliminati ha detto delle cose che segnalano non è tanto il contenuto che sono discorsi che lasciano a tempo che trovano ma e segnalano una mancanza una mancanza di volontà di ricucire i rapporti la Russia ha voltato pagina e quando prende una decisione la Russia è irremovibile la storia dice questo è andata contro i suoi indirizzi orientamenti politici economici e culturali che l'hanno caratterizzata da almeno quattrocento anni che ha sempre guardato verso l'Europa ha sempre avuto dell'elite ha un'anima euroasiatica ma ha sempre avuto dell'elite che guardavano verso l'Europa in questo momento sta facendo una torsione sta facendo una torsione da 180 gradi che la indirizza verso l'Asia e questo tipo di esternazioni sono sintomatiche a mio parere e significano che sì adesso noi andiamo avanti finché c'è la possibilità di andare avanti poi una volta ottimato gli accordi economici perché anche non è solo la Cina anche l'India sta importando quantità di petrolio di gas di materie prime di di carbone di materie prime russe a ritmi incredibili e quindi è proprio una volta ottimato definito formalizzato questo questo rapporto questa questa alterazione questo cambiamento sostanziale di approccio strategico verso il resto del mondo la Russia potrebbe benissimo decretare la chiusura dei rubinetto e a quel punto io non so come potrebbe cioè lo so me lo immagino non sono solo io averlo fatto come potrebbe reagire un'economia di trasformazione come quella europea tedesca in primis italiana in secondo luogo certo ma scusami se provo ad aggiungere qualche elemento il tuo discorso tra l'altro mentre tu parlavi è arrivata una domanda proprio sulla posizione della Germania nel conflitto ucraino ma credo che tu abbia c'è stata una perfetta coincidenza credo che tu abbia risposto no cioè tu hai detto che la Germania vorrebbe andare da una parte ma è costretta in qualche modo dalle convenienze politiche eccetera andare dall'altra io vorrei aggiungere qualche elemento alla questione Russia Europa perché secondo me è molto interessante ed è questa tu dicevi un paese euroasiatico dove però il 60 e oltre per cento della popolazione vive nella cosiddetta Russia europea no quindi è ancor più significativa quella che tu chiami torsione no cioè il fatto che è un paese sostanzialmente dal punto di vista della popolazione europeo e che però ha deciso perché secondo me l'hanno deciso più loro di noi di mandarci a quel paese perché la guerra in Ucraina secondo me al di là delle questioni specifiche il Donbass eccetera è per dirla con Beppe Grillo dei bei tempi un gigantesco vaffa inviato verso occidente e vorrei vorrei aggiungere una cosa tu dicevi dell'India ma proprio oggi sono usciti i dati la Russia è diventato il primo esportatore di petrolio in Cina che a sua volta è il primo consumatore di petrolio del mondo e se non erro correggimi perché qui vengo proprio nel tuo quindi posso sicuramente sbagliare la Germania che era il primo fornitore di tecnologie alla Russia adesso è diventato il secondo dopo la Cina cioè c'è un processo di appunto è come la Russia come lo portaerei per girare ci mette una vita ma sta girando e non è da oggi non so se tu concordi questo lo dico ecco insomma io credo che la Russia abbia il discorso di Putin a San Pietroburgo è emblematico la Russia la mossa di scendere sul sentiero di guerra in Ucraina rientra in un disegno molto più ampio io dal primo momento l'ho sostenuto la Russia si è ha ritenuto che la misura fosse colma dal suo punto di vista ha tollerato ehm una una serie infinita di sgarbi di mancanza di rispetto ognuno valuterà a seconda delle proprie eh della propria sensibilità ma non credo che molte di credo che molte di queste cose fossero fondate dalle espansioni della Nato al fatto di appoggiare la costruzione di linea di gasdotti e oleodotti che non transitassero tipo il Bakut Pilisi Seyan per esempio che fatti costruiti apposta per saltare il territorio russo e attinge e collegare l'Unione Europea a fonti che non fossero russe lo prende l'Unione Europea ha un senso gli americani lo patrocinano è un altro e la strumentalizzazione per esempio il fatto di usare eh un corpo di terroristi fondamentalmente in funzione antiseriana per colpire quello che è il principale alleato della Russia sul Mediterraneo è una serie infinita ma si potrebbe tornare prima la guerra della Jugoslavia io credo che la Russia intravedesse proprio quello spettro la frammentazione la balcanizzazione c'è un piccolo problema di di collegamento e siccome siamo in diretta subentro io io vorrei completare cioè intervengono per via di questo problema soprattutto però eh sono d'accordo con quello che dice Giacomo Gabellini e cioè eh qui c'è il 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 problema travalica di molto il la questione peraltro crudele orrenda eh di questa invasione russa del dell'Ucraina ecco forse Giacomo e e tornare scusa se vuoi completarlo sì sì no dicevo sì sì è proprio il la questione è proprio quella eh il il fatto che eh la Russia sta cercando di ridisegnare gli equilibri internazionali e ci sta ci sta facendo facendo leva proprio sulle sui propri punti di forza che la la sua la sua estensione geografica la sua dotazione di materie prime perché eh vorrei aprire una piccola parentesi io ho sempre pensato che ehm eh la concezione economicistica che abbiamo noi in occidente sia una cosa una delle catastrofi più grandi si è pensato alla Russia è un'economia sotto sviluppata dopo ci si rende conto che eh l'ottantacinque novanta per cento delle cose che ti servono per la vita quotidiana per cui i fertilizzanti e le materie prime ti vengono tutte dalla Russia nel momento in cui la Russia decreta la chiusura di questi di questi eh canali di diciamo di fornitura noi andiamo in pacca questa è una cosa che noi dobbiamo cominciare a capire e non è il pil il metro di misura è il fatto che qui hanno la Russia ha un'economia che si basa su cose reali cose indispensabili per la maggior parte della popolazione mondiale che non vive di Netflix non vive di eh di consulenze ma vive più prosaicamente di eh ha bisogno di garanzie per quanto riguarda e neanche neanche di Volkswagen visto che stiamo parlando di Germania no è meglio avere la pagnotta e non avere né sintomatico l'allineamento perché io lo chiamo così eh sotto forma di astensione sotto forma di vari velati di distinguo ma da parte di gran parte dei paesi africani all'ONU l'Africa quasi in massa in gran parte delle popolazioni o hanno votato a favore della Russia o hanno si sono ostenute dalla condanna dell'operazione russa e la maggior parte dei paesi del mondo non si è nemmeno sognata di aderire alla campagna sanzionatoria nel resto del mondo ci inserisco anche la Turchia che fa parte della Nato che fa parte della Nato dal 1954 che è un bastione fondamentale della Nato ma che come ha ribadito Erdogan diverse volte per noi la Russia è un partner strategico indispensabile non possiamo farne a meno e guarda caso la Russia cioè la Turchia cosa sta facendo? Sta accogliendo i turisti russi che non vengono fino in Italia mentre noi ci siamo adeguati alle politiche statunitene si Erdogan personaggio che non riscuota certamente le mie simpatie però ha la capacità di scernere ogni tanto quelli che sono gli interessi nazionali e di cavalcarli fino in fondo in questo caso è dato prova e noi invece abbiamo tutto da rimetterci da questa situazione per cui credo che la Russia stia proprio facendo leva su questi paesi che non sono diciamo sul sud del mondo per usare una retorica un po' un po' desueta sta cercando di riorientare di raccogliere alleanze a livello internazionale che oltre alla Cina oltre i BRICS ricomprendano molti paesi del sud del mondo che sembrano particolarmente ricettivi a quelli che sono i messaggi del creminino sono paesi che hanno le una demografia prorompente nella maggior parte dei casi siamo decadenti siamo decadenti e anziché frenare questo processo di decadenza noi occidentali la stiamo secondando a mio parere sotto ogni punto di vista è arrivata una domanda il riarmo tedesco che cosa ne pensi strutturale spinto dalla contingenza della guerra qual è il suo significato profondo è una questione piuttosto piuttosto delicata mi piace ricordare che nessuno se ne ricorda ma nel 1990 all'atto della rinificazione tedesca la rinificazione tedesca pur resa possibile come noto da un accordo verbale non messo per iscritto ma confermato da fonti tedesche francesi britanniche eccetera tra james becker george bush gorbosov che varnazze fondamentalmente in base al quale la l'unione sovietica autorizzava la rinificazione tedesca e la contestuale entrata del paese rinificato nella nato a fatto che la nato non si sarebbe espansa di un unghia al di là del diciamo del confine orientale della germania ma di più l'accordo prevedeva anche che i contingenti militari occidentali non sarebbero entrati nell'ex ddr nell'ex germania est un accordo che a quanto pare era stato accettato da tutti e dato per scondato e molti non si sono resi conto di delle enormità di questa concessione da parte di un paese come l'unione sovietica l'unione sovietica russia zarrista prima nella prima guerra mondiale unione sovietica nella seconda ha avuto 30 35 milioni di morti proprio per combattere le invasioni tedesche è qualcosa di qualcosa di veramente enorme autorizzare la rinificazione di un paese che a livello storico aveva avuto quel tipo di glemanza proprio anche a livelli a livello psicologico basti pensare per esempio che ogni volta che si parla di esercito comunitario i francesi ancora terrorizzati dalle campagne dell'ottocento di bismarck mettono rigorosamente il veto perché comunque devono tenere sotto controllo la potenza militare tedesca e in questo contesto la richiesta di adesione alla nato di finlandia e svezia e la piano di riarmo tedesco da 100 miliardi di euro così deciso secondo al quale ha fatto poi come al solito a rimorchio è venuto l'approvazione da parte del parlamento italiano dell'allineamento dei livelli di spesa ai canoni della nato quindi 2 per cento del pil quota che non era mai stata raggiunta finora ma sull'onda degli eventi in ucraina è stata decretata configura uno scenario piuttosto particolare conflittuale perché un riarmo da 100 miliardi di euro dell'arco così deciso di punto in bianco da parte di un paese come la russia può avere delle implicazioni di non poco conta anche perché colloca la germania uno dei paesi con la spesa militare il rapporto al fil è piuttosto in alto 100 miliardi in più diciamo in un sul colpo e quindi a questa manovra corrisponderanno delle contro manovre da parte dei russi per forza di cose che comporteranno probabilmente lo schieramento di una serie di strutture missilistiche orientate non solo sul baltico ma anche contro la germania comporterà l'intensificazione l'esasperazione dei toni in termini diplomatici e aumenterà incrementerà per forza di cose il clima di sospetto quindi invenerà il clima in un contesto del genere basta una scintilla per dar fuoco alle polveri e io la vedo molto molto critica la situazione quindi credo che colgo con favore anche se strumentale per i suoi esiti finali la blocco momentaneo del processo di adesione alla nato dei paesi scandinavi perché allungare di qualcuno parlano tutti di nato mi piacerebbe che qualcuno leggesse lo statuto della nato l'articolo 10 della nato parla di stabilisce come criterio per l'inglobamento di un nuovo candidato il fatto di accrescere la sicurezza comune dell'intera alleanza io vorrei sapere come si possa come si può pensare che i paesi l'italia i paesi che già aderiscono la nato quali vantaggi possono trarre in termini di sicurezza dall'allungamento del confine diretto tra la russia e il fronte nato di qualche migliaio di chilometri perché il confine 1340 alla finlandia è una cosa quindi qualora venissero degli argini a questa ibris mi viene da dire questa ibris da parte occidentale sono dal mio punto di vista ben accetti e chiaramente mi auguro che la germania devo essere sincero mi auguro che i verdi vengano messi in minoranza vengono ridotti nella condizione di non nuocere e quindi ricondotti nel una ragionevolezza perché in questo momento stanno mi sembra mi sembra di vedere che in europa stiano prendendo piede le posizioni più oltre attista e meno inclini alla soluzione diplomatica e nel momento in cui prendono prova né le dichiarazioni allucinanti a mio parere del capo di stato maggiore dell'esercito britannico che ha parlato del ha dichiarato apertamente che l'europa deve prepararsi a combattere una nuova guerra sul proprio territorio per arginare l'aggressività russa si comincia da prendere piede queste posizioni è pericoloso io naturalmente ricordo chi ci ascolta che qui siamo aperti alle domande anzi ci fanno molto piacere e quella che ti faccio io adesso vorrebbe essere appunto comunque la mia la mia ultima un po ritornando da dove siamo partiti no cioè dall'era merkel io ho cercato di essere come dire benevolo verso la signora che adesso come sempre succede quando quelli grossi escono di scena poi spuntano tutti i critici no mentre quando sono al potere i critici guarda caso sono molto più rari però detto questo la merkel in quanto cancelliere tedesco esattamente come il presidente francese è stata per otto anni la garante dei cosiddetti accordi di minsk no e onestamente parlando nella francia nella germania hanno fatto assolutamente nulla per questi accordi di minsk o comunque per intervenire in maniera un po decisa sulla crisi del donbass che come invece sentiamo adesso dire ogni minuto è una crisi europea l'ucraina è un paese europeo eccetera eccetera quindi anche otto anni di crisi del donbass sono stati otto anni di crisi in europa per cui l'europa non ha fatto nulla no di positivo o pochissimo diciamo collego questo con quello che stavamo dicendo di questa germania che è il colosso europeo ma che adesso in questa crisi sembra smarrita non sa bene dove battere la testa chi rivolgersi si fa un po tirare per la giacchetta da tutti prendere le decisioni poi poi cerca di affondarle insomma non serve alla fine questo colosso tedesco colosso europeo però non sembra con una capacità di iniziativa politica cioè non all'altezza della sua potenza è più grosso che forte ecco non so come dire ma sono pienamente d'accordo io credo che 50 anni di guerra fredda abbiano avuto un effetto piuttosto dirompente in termini di diseducazione al pensiero strategico dell'elite europea per cui gli europei si sono confinati in una un diciamo in una forma sono ridotti a una forma mentis che li ha portati a pensare che tutto fosse garantito che bastava comunque pensare al ritagliare i nuovi spazi economici nuovi mercati basta guardare le schermaglie dell'unione europea sul rapporto deficit in dell'italia che costato la nomina di un ministro come savona cioè su quello ci sia capiglia ma sulle cose che veramente attengono al futuro dell'unione europea non c'è non se ne parla quindi ognuno va in ordine sparsa come giustamente dicevi tu di fronte a una sfida epocale come quella posta dalla crisi dalle generazioni della crisi anzi direi prima tu giustamente ricordato di accordi di minsk vorrei ricordare che gli accordi di minsk l'unione europea aveva c'era è stata raggiunta attraverso il cosiddetto quartetto normandia quindi russia ucraina germania francia garanti di questo accordo e francia germania si erano addirittura espressi a favore della graduale revoca delle sanzioni alla russia che hanno state imposte sull'onda dell'ingrobamento delle incorporazioni della crimea in caso di osservanza degli accordi di minsk ma poi alla fine le sanzioni sono rimaste in vigore quasi che solo la russia fosse responsabile dell'osservanza degli accordi di minsk e non anche l'ucraina l'ucraina ha continuato a beneficiare di finanziamenti europei poi come abbiamo visto non solo di finanziamenti europei di sono arrivati strutturi nato che hanno formato l'esercito ucraino l'hanno formato per otto anni lo stesso poroschenko in questi giorni ha dichiarato apertamente che sì gli accordi di minsk sono stati solo una misura strumentale per prendere tempo e crescere economicamente per prepararci a quello che stiamo vivendo adesso io quantomeno mi sarei aspettato dagli europei che adottassero se fossero stati in buona fede ben inteso adottassero misure di diciamo di vincolanti nei confronti dell'ucraina io ti sostengo erogo finanziamenti ti aiuto a rimetterti in sesto ma a patto che tu a patto di avere contezza di un tuo concreto impegno a favore dell'osservanza di questi accordi che tu hai firmato invece così non è stato l'ucraina ha continuato a beneficiare a fondo perduto dei finanziamenti europei probabilmente dietro il pungolo toglierei probabilmente dietro il pungolo statunitense ma anche secondo me dietro il pungolo tedesco perché la germania come sempre a mio parere intravedeva nel rovesciamento di yanukovic nell'instaurazione di un governo pro occidentale la possibilità di allargare questo spazio di cui parlavo prima spazio economico questa periferia fordista dell'industria manifatturiera tedesca anche in ricompenderci anche l'ucraina quindi l'accordo infatti subito dopo fuci di euromaidan e l'instaurazione del governo che il governo di a winter in ea zenyuk mi ricordo era banchiere piuttosto gradito a vittoria nulla la prima la prima mostra dell'unione europea fu quella di sbloccare l'accordo di associazione con l'ucraina che facilitava per esempio gli investimenti occidentali in ucraina la rimozione di alcune varie redoganali facilitando gli investimenti si amodernavano nell'ottica tedesca come al solito si amodernavano le fabbriche impianti industriali ucraini si adeguava necessità dell'apparato del lab industriale tedesco e quindi la germania otteneva un ulteriore aria e geoeconomica per sé il problema è che questo gioco come dicevo prima gli si è ritorto conto un po perché lei degli interessi russi e dalla russia la germania ci compra energia un po perché lei degli interessi statunitensi perché gli interessi unitensi si integri l'ucraina ma non devi più comprare idrocarburi russi quindi la germania si è ritrovata in questa contraddizione fondamentale strategica e i giochi che i nodi non sono venuti al pettine e adesso che sono venuti al pettine non sappiamo come uscire da questo gina praio io credo che con questa tua frase possiamo anche chiudere questa nostra conversazione è un'ora ti ringrazio tantissimo nel tuo tempo della tua disponibilità e delle conoscenze che hai messo a disposizione di noi tutti vorrei ricordare che è arrivato fin qui che o anche chi non ci è arrivato anzi soprattutto quelli che domani questo è questo questo nostro incontro con giacomo gabbellini esperto di politica internazionale geopolitica e autore siccome abbiamo parlato di germania lo segnalo di questo di questo libro dedicato appunto alla continuità politica economica e strategica della germania così si intitola go where editore e niente ricordo che domani questa conversazione andrà sarà caricata su youtube quindi ti vuole la può recuperare per intero chi è mancato a una grande fortuna perché così può invece rifarsi e io ringrazio tutti ringrazio soprattutto giacomo gabbellini in primo luogo ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e ringrazio sotto sopra io sono fulvio scaglione e vi dico che questo è stato vista ormai l'estate alle porte il calore che impazza è stato il nostro ultimo appuntamento ci si rivede a settembre con tante altre belle iniziative spero seguite come questa grazie a tutti grazie giacomo e buona salta